Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Modica in via Silla nei pressi dell'istituto scolastico Giovanni XXIII. A perdere la vita è stata Rosaria Bravo, una donna di 59 anni, alla guida di una Peugeot 107. La donna si è scontrata con un SUV all'altezza di un incrocio e per lei non c'è stato nulla da fare. Rosaria Bravo, insegnante presso una scuola dell'infanzia e deceduta sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori del 118. È andata invece meglio al conducente del SUV una guardia carceraria di 48 anni. Per quest'ultimo si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sono stati infatti riscontrati diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente è stata coinvolta anche una terza autovettura ma in questo caso per il conducente non si sono riscontrati interventi sanitari di particolare rilievo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. La comunità modicana è attonita da quanto accaduto sui social. Sono numerosi gli attestati di cordoglio rivolti alla famiglia dell'insegnante.